Il kick-off è uno dei momenti più importanti dell'anno. È in questo evento che annunciamo le strategie definite per il 2023. Presentiamo i nuovi prodotti, condividiamo le nostre esperienze, le nostre difficoltà e le nostre vittorie. E soprattutto è una giornata per sentire la nostra azienda e tutto il coinvolgimento delle persone che lavorano insieme con un obiettivo comune. Benissimo! La prima parte della giornata è conclusa. Adesso andiamo alla nostra festa in maschera. Come sempre in Italia abbiamo una giornata bellissima, un'energia carichissima. Oggi ho sentito proprio un ambiente molto familiare, molto più intimo, con tanti valori umani che mi ha piaciuto tantissimo. Per me è un bilancio molto positivo di questo evento. Un evento da sogno per chi ci ha permesso di realizzare i nostri obiettivi. Una parola per descrivere questa giornata. Energia, energia allo stato puro. Quando vieni a questi eventi qua ti rendi conto del fatto che puoi cambiare la tua vita grazie a Vegas. Determinazione. Essere stata lì con voi, guardare la grinta e la determinazione di tutte le persone del team Vegas è stata una soddisfazione immensa. Crociera. Perché è sempre stato il mio sogno fare una crociera e grazie a Vegas quest'anno l'ho vinta. Quindi non vedo l'ora di partire, sono felicissima. Iva Vegas. Grazie a tutti per aver reso questa giornata indimenticabile. Ci vediamo al prossimo evento, il nostro Power Day. Alla prossima.